Ed è Angelini, Lorenzo Angelini, Atletica Avis Macerata! 21 e 57, cosa rappresenta per te questo numero? Allora, questo risultato per me è molto importante perché lo aspettavo da molto tempo, da qualche anno. Dopo sverati tentativi ce l'ho fatto, ovviamente con tanti sacrifici e tanto allenamento, che mi segna come recordman regionale assoluto nelle marche, quindi nella specialità dei 200 metri indoor. Questo risultato per me significa molto perché comunque tutto quello che viene fatto al campo, i sacrifici, gli allenamenti, alla fine poi ripaga tutto, insomma. Un risultato che arriva a qualche mese dal bronzo di Padova che reputi probabilmente il punto più alto della tua carriera. Sì, esatto. Il bronzo che ho fatto a Padova ai campionati italiani assoluti, sempre nella specialità dei 200 metri, è il risultato più importante di rilievo della mia carriera perché, ecco, è da 6-7 anni che non partecipo più a un campionato italiano assoluto per vari infortuni e cose del genere. Quindi poter essere lì insieme comunque a tanti compagni di vecchia data e tornare a gareggiare comunque con quelli più forti d'Italia e poter arrivare in un podio assoluto che mai aveva pensato di raggiungere. È stata un'esperienza veramente indescrivibile. Hai 28 anni e vieni da questi due risultati importanti. Che momento è della tua carriera e quali sono le prospettive per la stagione che verrà? Allora, 28 anni intanto sono tanti, però ancora c'ho tanto davanti, sicuramente. e quindi mi sto allenando tantissimo e ovviamente ecco è una cosa... Gli obiettivi, allora innanzitutto sono ovviamente più ambiziosi rispetto all'anno scorso, quindi poter migliorare sempre di più e poter volare sempre più in alto. Ovviamente il prossimo obiettivo sono i campionati italiani assoluti di Rovereto che si terranno a giugno e quindi ecco poter sempre migliorare anche il mio personale outdoor nei 200 metri che è la mia specialità insomma. Volevo innanzitutto dire che dietro a questi risultati c'è un team che mi aiuta tantissimo e mi sostiene tanto partendo dal mio allenatore Antonio Savaia che mi sta sempre dietro con gli allenamenti dalla mia mental coach che mi aiuta ad affrontare i momenti pre-gara, i momenti di allenamento nuovi, queste cose qua alla mia nutrizionista che mi segue nel piano alimentare Lucia Rossi e al mio fisioterapista Denis Marinelli che se poi è appena laureato da poco e quindi è fresco ed è oltre a un fisioterapista un atleta come me che lavora sul campo e quindi capisce comunque le mie esigenze. Voglio anche ringraziare una persona che è vicino a me da tanto tempo che è Valeria Fontanne che è stata la mia ex allenatrice ma è sempre presente sul campo e mi ha cresciuto da quando ho iniziato a fare attività agonistica fino adesso insomma ecco quindi la ringrazio veramente tanto perché mi ha portato comunque da zero a risultati importanti.